Buongiorno amici, appena consegnato il Cecotec Bacon Toast 3090 White Giro. Lui è la versione da 30 litri, avete visto già quelli sul mio canale, da 26 litri e da 46 litri. Questo è leggermente più piccolo, si pone in mezzo, però ha sempre le stesse caratteristiche, quindi convezione, calore dal basso, calore dall'alto e girarosto. Quindi è completo di tutto ed è perfetto, consuma solo 1500 watt, quindi è veramente conveniente. Per testarlo farò uscire poi una super ricetta, un po' complicata per questo tipo di forniti, per metterlo bene alla prova. All'interno della confezione troviamo il kit con la griglia, il girarosto, vedete qua il girarosto, gli spiedini, gli attacchi per il girarosto, quelli tradizionali, la placca da forno e quindi il raccogli briciole. Tutto in un'unica confezione. Questo è il forno ed è veramente molto carino. Allora la colorazione bianca è stata dotata solo per la parte frontale, mentre su tutta la copertura abbiamo un bel grigio e questo va bene perché questi forni quando vanno a scaldare tendono a ingiallire se sono bianchi, invece in questa colorazione rimarrà perfetto negli anni, quindi molto molto meglio. Guardate che meraviglia! Questo è l'interno, chiaramente anche lui è dotato della luce interna, qui abbiamo il forro per il girarosto e queste sono le bocche di ventilazione per la confezione. Le resistenze dal basso, le resistenze dall'alto, quindi super super accessoriato. Vediamo la temperatura che può essere regolata da 90 gradi fino a 230, quindi va bene per ogni tipo di preparazione. Qua abbiamo tutti i programmi che possono essere selezionati, poi ve li farò vedere con calma e questo è il timer che funge anche da tasto di accensione, quindi così si accende e poi quando finisce scatta. Semplice! La luce di funzionamento, insomma come gli altri che abbiamo già provato, però leggermente più piccolo rispetto a quello da 46 litri. Quindi se avete una cucina non troppo capiente questo è perfetto. Veniamo ai programmi. Allora, qui abbiamo statico, calore dal basso e dall'alto. Qui abbiamo calore dall'alto e ventilato. Calore dal basso, dall'alto e ventilato. Qui abbiamo il giragosto, quindi calore dal basso, dall'alto e giragosto. Sembra che ci sia anche la ventola. E qui abbiamo invece soltanto calore dall'alto e spiedo. Quindi ci sono le diverse opzioni da poter impostare. Io credo che utilizzerò sempre e comunque questa, perché mi trovo bene con questa funzione anche nel 2600, che è quello un po' più piccolino di questo, ma secondo me va benissimo, perché diffonde bene il calore e la cottura è molto omogenea. Mi piace tantissimo. Quindi utilizzo sempre questo basso, alto e ventilato, che un po' è quello che faccio anche nel forno grande. Quindi mi trovo molto a mio agio.